Venerdì mattina nei giardini del complesso di abitazioni del progetto pilota del quartiere Provvidenza è stata collocata ed inaugurata la scultura Fuori dagli Schemi di Carlo Sillitti realizzata insieme ai giovani del percorso di giustizia riparativa guidati dall'arte terapeuta Vanni Quadrio. Questo passaggio in realtà è un inizio di un percorso che è molto lungo. L'opera si intitola Fuori dagli Schemi e doveva essere apposta in un altro luogo in realtà, non in questo luogo, in un luogo di degrado assoluto. Qua l'opera fa da cornice, quindi bellezza su bellezza. Io mi auguro, mi auspico che l'opera venga manutenuta e venga goduta e fruita per quello che è. Un inizio di un percorso rigenerativo ma di tutta l'area, non solo di questa, perché questo qui è un inizio ma si presuppone che quest'inizio prosegua nel tempo. Così sulle note del sax di Pippo Pizzo, raffinato musicista jazz, tanta l'emozione dei presenti al momento in cui i rappresentanti di associazioni e istituzioni e l'artista stesso hanno tolto il telo. L'inaugurazione è avvenuta al termine dell'incontro per il Patto Territoriale per la Giustizia e la Bellezza di Comunità, promosso dall'UEPE in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura.